Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua con RayDG Ciao E siamo in Minecraft su PC Io ragazzi ve l'ho promesso Nei primissimi video Così facendo? Un po' Ve l'ho promesso nei primissimi video Dove avrei trasmesso tutto Da telefono a PC E finalmente ce l'ho fatta Perché come vedete il telefono è qua E quindi Bene iniziamo Cosa si fa? Ray Quello che vuole è lei Skywars vai Team Vai nel team 4 Chi sei? Quale team? Vai team giallo Sei bene Allora Ragazzi finalmente ce l'ho fatta A portarvi un video di Minecraft su PC Ma sei sicuro questa lobby funziona? Cosa? No perché Questa lobby non funziona perché non c'era nessuno anche prima Eh tranquilla Appena che abbiamo inizio Eh appena appena Ma dai usciamo Andiamo una casa piena Scusa Va bene No eh No eh Chi sei? In quale? Eh in quale? Ma 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 chi c'è la server? Ma allora Cosa? Un attimo Ci siamo? Dai Minecraft Finalmente Ho fatto un piccolo taglio No perché è crashato Allora Rilogga Se vuoi rifacciamo tutto Rifacciamo È crashato Beh facciamo Skywars normale Poi se ne facciamo team comunque Allora Rifacciamo una intola Rifacciamo tutto Tagliamo Giuse Giuse Ti ho metto tutto così Come metti tutto così? Fai la Skywars vai Quale? Dove sei? Lì Chi sei? Quattro vai Snake Bello che la Snake Mi ha sempre portato fortuna Ho vinto due volte E l'ho vinto tutto Sulla Snake La prima Si sono suicidati tutti La seconda era con quel Spagnolo che ti dicevo Tu dove sei? Io stai amato Non c'ho il vetro Non c'ho Sì Ah Sì Ho giocato Stavamo Bello che non c'ho neanche una cesta Pensa Sono tutti in fondo Ma in fondo dove che non ce ne ho? Giù 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 non ci sono Oh ecco ne una Lagga come Lagga come non mai Madonna mia Aspetta che Riccio ancora la mappa Full Armatura Fu cosa? Full di che cosa? Armatura Full di assi? No Ma dai Io c'ho un piccone in diamante Ma ho solo una Ho trovato solo una cassa Ho trovato Perché lagga? Dai non laggare Ma sta laggando come romano Adesso vado a picchiare Su qua Alla spa di in diamante E mangio la mela d'oro Che stronzo Ho messo la lava Si è ucciso da solo No Ora Aspetta che Facciano più giù giù Si ucciso Perché lagga? Ok È morto Giù è ucciso È morto Da solo Nella lava È morto Uh che figato E muori pure te Dai Flux Ho ucciso L'ho ucciso Ho ucciso un tizio Vai Ci sei? Oh Perché mi togli i blocchi? Perché sto qua Mi ha solo la lava Guardi se ci sono da solo Ma va dove sei? Sono nel serpente Oddio Sto laggando Il serpente arancione La c'è un tizio Che mi servirebbe Serpente rosso Si più più C'è È un serpente È piccolo Rosso E è ragione Ma perché? Mi toglie i blocchi? Si è morto Quello che è appena È successo a me Mi stavo pensando Mi ha tolto un blocco Ma i fazzi No Giuro con l'arco Ma va va in culo Che se è un tizio Colore? Colpito È affondato Che se è un tizio Boh Ah ti fai la casetta Sei uno blu No Dai Dove sono la casetta gialla Di lato Eh vedi C'è un po' che se è un tizio Sta arrivando Ah 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 Suga Ma che hacker Quando cacchi ci mettiamo Guarda Ci ha messo mezz'ora Per mangiare una zuppa Oh ricrena ma Ok ora va più fluido È bello che non ci blocco Ora quello cavolo faccio io Chi ha E tu non blocco? Due Uno Due Allora Gli ancora c'è qua È davanti all'altra parte È davanti all'altra parte Di serpente Ma Gli altri dove sono? Allora Gli altri Nove Non te lo dico Questo è barale Aiuto esterno Tanto Tanto Vai vai Uno è al centro Sì uno è al centro C'è qualcuno vicino a me E l'altro sta andando al centro Sono tutte due al centro Hanno sono full Cosa hanno? Allora uno C'è quello Ti dico solo che È a I stivaletti d'oro Il corpetto in diamante E la testina in diamante C'è Il corpetto in ferro E la testina in diamante L'altro È full diamond A parte il corpetto Che è di ferro Ma cosa fa? Ma è un team No come un team No Quello che gli è soffa Non lo vuole uccidere Ma va L'ha ucciso? No Al centro c'è un buco Ah è vero È vero È vero C'è il buco al centro È morto È morto C'è proprio malissimo È vero È vero Adesso Ti tocca affrontare Il full diamond Tu È full diamond A parte il corpetto Il corpetto Eh due spalle Però Devi andare in un piccolo altro E provare L'attività Dove Dove Il buco al buco Ci avete blocchi? Niente Ah Questo è un barricato dentro Sì Io ci sono Niente di Non c'ho niente di niente Spacca il legno Spacca il legno Non c'ho niente di niente Le manine Eh le manine Ma dai Ma che due Ma dove Ci sei? Sì Non so se sia ogni 5 o 10 minuti No ogni 15 Boh Quindi che io Ogni toto Devo riavviare La registrazione Perché sennò Intanto poi ne taglio Oh Che roba C'è una ciaspina Era piena Era piena Con un po' d'astuzia, ma... Eh, infatti ho preso un secchio di lava perché voglio... Sperando che non abbia l'acqua. No, se l'è andato. Mi dico dove è andato. Dove è andato? Lo dico perché se l'è andato a quel punto. No, no, ancora in quel punto. Al centro? Ma vuole uscire, andato. Dico cosa sta facendo. No, sta uscendo. Ah, sì? Sì, adesso si sta guardando intorno. Aspetta che shifto. Ah, per caso delle enderpearl? Non lo so. Merda, sono rischiato. Intentar non costa niente. Ho visto una cesta che sembra bella bella. Dove l'hai vista? E ti dico se c'è qualcosa. Davanti a me, quello dove sto per saltare. Ah, no, non c'è niente. C'è un arco con potenza 1 e il capo del tuo. Poi quella di sotto c'è una spada di diamante. Mi serve una scarpetta e un corpetto per diamante. Qua c'è? Niente, no, non c'è niente. Dai. Onde vuole sta? Eh, è quello di prima, non è che quello di prima, spagnolo. No, l'ho ricordato ieri sera. Stico spagnolo. Madonna, se lagga. Io poi sono suato come un cane. Perché? Non ho blocchi su spagnolo di me. Aspetta che faccio un po' di pulizia perché sennò... Madonna, il video lagga la comune. Perché fa... Ah, blocca il salto? Guarda che mi blocca il salto, lo vedi? Questa sta volando, sennò, io che sto laggando, sta volando. Eccolo, eccolo. Dai. Allora, sta guardando. Non ti ha visto? Ah, non vuole... Stava facendo, vuole farti sprecare le frecce. Ma non ti ha visto. Ma non ti ha visto per voce. Occio... Mi schermate in differenza, dall'altra parte i capelli. Ti ha distrutto. Ma con un colpo, proprio. Perché ti ha fatto cadere? Sì, voleva l'arco knockback 5. Cioè, no, ci hanno guardato giù con un colpo, eh. Madonna, mi sto sciodando come un cane. No, non risponde. Non adesso, buongiorno. Cosa facciamo? Non ne facciamo un'altra. Di Sky Wars? Sì, entra nell'asse. No, no, un attimo, no, no, no. Ma scusa, se facessimo un Egg Wars o Bad Wars? Non ne facciamo un'altra. Che sta qua? Ciao! Ciao! Lagga. Lagga come non mai! Vai, vai nella quattro, dai. Facciamo una lista nella quattro. Galaxy. Aspetta. Madonna mia, qua sta lagga. C'è una spivagnia che è sudata anche lei. Non me la sto scherzando. Sei di fianco a me, Gabriele? Come? Dove sei? No, però sta mappa qua è una merda. Sono quello col petro blu. No, beh, dai, è carino. Ma va! Sono quello col petro blu di fianco a me. Sei far parkour? Non è che far parkour, è che... Perché quello ce l'ho da far parkour. Allora abbiamo perso. Sì, ma penso che ce la dovremmo cavare abbastanza bene. No. Tu c'è già l'arco. Tra il tuo te lo porto. No, ce l'ho, ce l'ho. Lo prendo sempre utile un arco più. Ce l'hai una storina? Aspetta, io voglio essere preciso e ordinato. Uh, che roba. Arco potenza 1. La cespe con l'incantata. Le uova. Guarda che... La canna da pesca è utilissima, beh. Non la so usare io. Ma va. Tasto destro. Eh, quello lo so pure io, quello. Però c'è, non riesco... Non so quello che ti riparo. Ok. Ho tutto tranne che i piedi. Ma in diamante? Eh, sì sì, in diamante. Eh! Il colpezzo. Ah! Guarda, guarda, su quello di fianco a te. Cavolo sei? Stai arrivando? Hai una spada? No, quella no. Madonna, io sto riloddando perché l'acqua è un casino. Ce l'hai una spada? Eh, te l'ho chiesta io. Ah, c'è una cetta? Sì. Eh, anche io quella. Tanto. Povre colarco. Oddio, è allaggatissima. Andiamo al cetto direttamente. Ce n'è uno qui di fianco a noi. Se lo prendo, lo tiro giù. Non mi spingere. Guarda se mi... Hai preso? Cosa? No. Controllo perché ha l'arco in mano, ho visto. Sì, quello... Eh. Non lo vedo io. Perché l'acqua? Allora, tu fai il ponte da lì e cerchi... Cioè, è... E io intanto faccio il ponte da lui e ci provo. Stai attento? Cavolo, 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 ho faccio il capello, ho faccio il capello, ho faccio il capello. E con l'arco? L'arco come non ho mai? No! Ti ho salvato! L'ho preso! No! Ti ho salvato! Ah, io non ho molte armi. Vado, ma... Ma tira su una frecciata? Non andarci, ne? Vado a uscire che io sono con l'arco. Boh. Vieni con me, va. Ma chi sia? Eh, no, siamo troppi, c'è. Ma da lì era una brutta adesso. Ti ho visto già morto io. Eh, infatti, sta laggando un casino. Madonna, se sto rischiando. No! Che stavi dicendo? Ti ho visto già a morto. Ah, no, 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 io anch'io. Dove sei te? Sto facendo un po' di cuore, lento, lento, perché c'ho paura di tenere qualcosa sotto. Ma è normale che la gaga anche creativa. Non funziona. Non funziona. Non trova il junk. Parliamoci nella iglesia. Non lo trova. Non c'è un'arma. Non c'è un'arma. Ora si mi sta dicendo che devo uscire il telefono. Non c'è un'arma. Non c'è un'arma. Sì. Non c'è un'arma. Allora, qua il prison. Boy, è caduto uno dentro. Full diamond. Dove sei? Sono nel Warp G. No, nel Warp S. Aspetta, allora, chi? Oh, allora. Warp. E ho ancora un po' di più bufie. Ma va, è più di gente. Un attimo, ti lascio. Allora, spiega un po' come funziona, va. A parte che penso che lo saprete già tutti come funziona un prison. Un prison è una modalità dove uno deve scavare. Raggiungendo una cifra che richiede il job, tu sali di rank. Salendo di rank, tu puoi, cioè, ti date le chiavi. Tu quelle chiavi vai nel Warp, nel Warp Crate e lì le apri. E poi devi continuare a scavare finché non arrivi al Warp Z. Vai un po' di più bufie. Ma scusa, dopo Warp Z ancora c'è? Ah, non lo so. Ma sta laggando come non mai. I WP, non c'è nessuna, i WP. Sì, ma se entriamo arriva tutta la gente. E poi io non ho una spada. Connessione persa. Cioè? Si uscita la server? Sì, ma faccio c'è bocca. Bacca. Ci sei? Che facciamo? Sto facendo rotellare una rotella. Come? Connessione del server fallita. Buona caffè a giorno. Ma? C'è? Oh! 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 Giuse, mi ha tolto! Ma dai! Ah, ma è qua. Ma... Un attimo! Sta laggando un casino! Vai a entrare! Non può lag! Cantiamo server! Sì, 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 vai, 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 esci, esci. Vuoi fare un po' di survival games? Madonna mia, se laggava! A me non mi faceva scavare, poi tornava sempre indietro. Faceva un loop. Che serverà un peraltro? Che anzi serverà un peraltro? Fair games. E a games a me non mi tocca me. Ah, adesso... Adesso mi portano... Adesso si vuol dire. Mmm, aspetta. Ah, ragazzi, sto facendo questi piccoli tagli perché... La password è importante. Ok, ragazzi. Dai, ho proprio oggi. Oh, io ormai sto imbattendo a tagliare perché... Allora, F3A. Toria, questo server dovrebbe laggare meno perché è più piccolo. Siamo in 300 giocatori. Sei già connesso, mi dice. Ma come è questo? La password principale. Mi sta volando bene questo giocatore. Allora. Ma come? Ma dai! Perché, raga, così tanto? Allora. Andiamo un po' a giocare a... A... A Gario. A Gario. Sì, perché... Oggi Minecraft non vuole andare. Magari io? Sì. Oh! Io entro? Eh, ma... Siamo nello stesso. Entriamo nello stesso. Ti faccio mangiare un attimo. Ok. Chiudi. Sai come si fa a fare... A fare lo stesso? Aspetta, faccio mangiare. Dai, vorrei mangiarmi. Ecco, bravo. Aspetta, vai. Dimmi, vai. Eh, un attimo che si sta connettendo. Ancora, ma... Eh, non... Ma come si diceva? Ma devi dirmelo tu. Parti, ah, fai parti. Io faccio crea... Aspetta, 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 aspetta. Sta laggando come non mai a me. C'è un secondo monitor. Con la registrazione, con Skype. E poi c'è attaccato questo qua, che sarà il mio microfono. Microfono. Tu non mi vedi, è vero? Non siamo... Vabbè. Com'è che dovrei fare? Allora, vai su... Vai, sai dove c'è scritto? Sì. Vai e vai su parti. Fatto. Join... Nome? Eh... Agar.io... Ma dai, diventatene uno o due decente. Ah, posso? Ah, davvero? Posso cambiarla? Posso? Non mi fa cambiare? Vabbè, mettine uno, vai. Eh, devi scrivere la password. Qual è? Agar.io... Aspetta. Sì? Eh, slash... Sì? Ashtag... Eh, poi... Aspetta, vedo l'ashtag. Ashtag... No. Questo qua. Questo qua. No. Altra G. Ok. G... Grande... G... Cinque... Ah, G grande. Cinque... Due... E... Grande... Sì? Quattro. Lo stai vettando ora? No, no. Anzi, quando lui ha fatto... Ah, vai. Join. Beh? Eccomi... Per sicurezza, chi c'è come primo da te? Dei cinesi. Come secondo? Cinesi. De me, sta a me. No. Un attimo, è un secondo. Un attimo, è un'altra cosa. Ok. Oh. Aspetta, aspetta, che mangio, aspetta, che mangio. Ciao. Mi ha mangiato. Come primo, chi c'è? Cinese. Cioè, ma non capisci quello che c'è scritto? The best. E allora si vuole lo stesso, e allora The best è uscito, vero? Ma sì, è primo, ma sì, è scritto in una lingua che è incompressibile. Allora, se vuole lo stesso, cinese, mi dici. Eh, ma è scritto in un modo che non si capisce. Oh. Il video è da Mr. Minecraft, e agar io, e video tutto, ho messo pesantemente. Oh. Perché lo fai giocare? Ah, ok. Vabbò, si chiamerà, eh, catteggio, minecraft, video, punto io, agar io. Poi se facciamo anche slitter, punto io, eh. Livello 19. Ma perché questo spalla triangoli? Ah, fa una barriere. Eh, ma perché a lui gli piacciono le cose triangolari. Io sto spammando come non mai. C'è un rosso, c'è un rosso. Dai. Mio. Ormai. Che livello sei? 20. 15. Sono i rossi che ci presidiano pure in base. Ma dai, chi è che ha il vantaggio? Rosso o blu? Rosso. Senta. Noi sono tutti blu? Fortunato. Oddio. Oddio. Oddio, sto maxando come non mai. No, un altro colpo è morito. Madonna, io sto maxando come non mai, eh. Però sto maxando. Livello 23. Livello 12. Ma va va. Frida, ti fa il twin, subito. 25. 25. 13. Madonna, io sto sparando così Io non ancora ci sono nessuno Oh, chi è che mi spara? Io non ancora ci sono nessuno, però Vai, vai, bullet speed E body damage Madonna mia Arrivano i nemici C'è molto rumore nel sottofondo Eh, se cosa me ne frega, non è Skype Da quanto mi sei mi chiamata con Skype? 56 minuti No, ti ricordi tua sorella cosa ti ha detto? Sto per uccidere un rosso Sto per uccidere un rosso Eh, vabbè Che non ce l'ha già dimenticato Madonna mia, quattro lag Livello 26 Oh, mio Dio Scrappa, scrappa Sono in mezzo a una squadra Sei morto? Sì Vabbè, adesso faccio i tacchi Sì, ma Sono rotto di Continuare a fare i tacchi Sì, di quelli che hanno amato Sì Bullet damage Livello 27 E l'ho add al massimo E si va E si va un po' a sparare Sai che il più forte Delle macchine È quello con 3 Che spara per 3 3, per cosa si chiama? Boh, vabbè Non so che c'è La cosa Vai, vai Maxa come non mai Livello 28 Se maxasse Boia, va Da cosa che saremmo registrando? E' il bello che Adesso Ho fatto l'upgrade No, lo sniper Toglio un sacco Ma Una volta l'usato Uccidevo persone Senza vederle Praticamente Io lì c'ero fatto L'upgrade Di youtube E ora posso anche Farmi le copertine Personalizzate Sì, ma quello C'era Da un bel po' di tempo Qua No, no Non puoi personalizzarle Se non hai fatto l'upgrade Non per me Non mi interessa Praticamente Ora Dovrò lavorare Come un cane Per fare la copertina A questo video Dai, vieni E a 10 Dai, vieni Vieni Dove sei? I video più carini E ti fanno bene Giuseppe Faccio il twin flame Se fa il Twin flame Faccio il twin adesso Il twin flame è la bestia Mi sono dimenticato Delle ente leggere Ho pochissima vita Qua è pieno Di rossi Bravo Tu, della mia squadra Ma io che Io dove sono? No, no, no Io ho 6.000 Di score Ma va Ucciso qualcuno? No Non mi ricordo Quando uccide qualcuno E che ti si ripace Un taglio Livello 31 Ah, io ho 19 Ho fatto tantissimi livelli Ma è pochissimo Adesso mi ricorderò Di mettere L'elto Vagene Boia va Io sto farmando Come un cane Oddio Io vado a farmare E poi quando farmate Al massimo Va ad attaccare Gli altri Arrivo livello 55 Voglio arrivare almeno In classifica Nella top 3 Che è difficilissima C'è difficilissima No Top 10 No Cos'è? Sono 8 In classifica Top 3 Top 3 No 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 Sei uno di quei colpi giganti Che se ti arriva Ti sciotta Eh, ti è sciottato? No Non me lo sono visto arrivare Non me lo sono Non me lo sono Non me lo sono Non me lo sono Un Let's beat Al massimo Pochi colpi Partono Che era bellissimo Sono imprecisi Al massimo Partono Che era bellissimo Ok Perché manca pochissimo Avevo livello 30 Livello? 30 Già Io 33 Eh ma il Il twin frame Da poca esperienza Il twin normale Invece Fa Una bellezza Io? Ma come mi sono entrati Due colpi di Di Come si chiama Di Il cecchino M'hanno M'hanno tolto Un terzo di vita Il genio Mi sei? Sì Io sto video L'edito stasera Poi dopo lo pubblico In Facebook Tanto l'ho pubblicato ieri Ho pubblicato vlog in montagna ieri Oh ma no Ti stavo per chiedere Tu sei iscritto al mio canale? Certo Bravo Porta tante visual Porta tante visual Porta tante visual Non lo so Quello dell'animazione bellissima dei pianeti Quale sarebbe? Quale sarebbe scusa? Non ricordo di più Quello dove c'è la dominio Che è facile ai pianeti Ah ma sì 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 Ma non l'ho fatto io Però Cioè sì L'ho fatto io Però non del tutto Però ce l'ha fatto un bel po' su Ma perché era un lavoro per la scuola Mi è venuto bene però eh Sì Mato 10 Vedrai che Andiamo anche un po' la max self Livello 30 Ma quindi È la prima volta che io faccio i video con te Prima volta Aspetta beh Madonna No Madun Divo che sei rascosto Sai quello che diventa invisibile? No Stalker Sì Sì Mi sono andata addosso Aveva il punto di amore che è il tipo Ma ho un po' scioccato Eh Sono fatti apposto Stalker Oh madà Livello Cosa È il tuo livello qual'è? Ah Sono bordo Ah madonna Ma Qua ci sono solo tre evoluzioni giusto? C'è? Ci sono solo tre evoluzioni? Bordo Sì Boh Ma scusa Attiva la video chat No no Fatti No Infatti Non ti inquadra Le rose Boh Bullet damage Quasi livello 40 E poi Cosa metto Metto Cosa metto Bullet damage Bullet damage Ah beh è vero che nasci con la metà della vita No Peccato Avevo pensato Chissà mi faccio uno sniper Eh fattelo Eh promesso un reload Ah Uno sniper che Che spararà Vai Pum 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 Beh non sarebbe male Io non capisco Tu ce l'hai il tuo nome Sopra il tuo No no Non ce l'ho Ah Chi è fatti Non ce l'ho Boh Così vanno abbastanza lenti Però comunque La bullet Pum 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 L'hai visto tutto il video del vlog in montagna? Eh? L'hai visto tutto il video del vlog in montagna? No No Dopo un po' che sono stufata da solo Ma dai ho vloggato anche con una mucca Oppure con una mucca Eh sì perché? Bella bella La mucca Tu l'avrei vista Non l'hai vista? No Ma no Non l'hai guardato niente Ho visto solo che Ho visto solo che avevi messo il video del vlog in montagna Ah Cambia allora Fai un po' di visual Fai un po' di visual Scommiamolo su tutto Telegram, Instagram, Facebook Che mi hanno ucciso di ora Vabbè Io penso che possiamo finire qua Oh perché si è allontanato? Vabbè Vabbè Io ti chiedo di chiudere qua Ci sei? Ho capito Oh ci sei? Sì sì Vai Chiudiamo qua? Va bene Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Vi chiedo di lasciare un like Che sia ben gradito E un saluto Ciao Ciao